Molise senza alcun contagiato, invariato il numero delle persone sottoposte a isolamento domiciliare da coronavirus, il cordone sembra funzionare, lo stato di attenzione resta alto. Le coro urbano, l'ordinanza del sindaco a Campobasso, il comune predispone interventi per ripulire le facciate decadenti e i negozi chiusi e fatiscenti, torna a funzionare il sistema di videosorveglianza. Riunire Abruzzo e Molise, il Partito Democratico rilancia la proposta, se ne è discusso in un convegno organizzato a Benafro, presente anche l'ex governatore abruzzese Luciano D'Alfonso, oggi senatore Dem. Cari di carnevale, il 30.000 all'Arino, tantissime persone hanno assistito nel fine settimana alla sfilata dei giganti di carta pesta, soddisfatti gli organizzatori che già pensano alla prossima edizione. Il Campobasso resta in scia della prima in classifica, più di 4.000 a Selva Piana per il derby, vinto dai Rosso Blu contro l'Agnone, il Vasto Girardi cade contro la capolista Matelica solo per un rigore. Buon pomeriggio a tutti voi dalla redazione, bentrovati all'edizione del lunedì delle 14, buon inizio settimana, sempre il coronavirus in copertina, lo avete però sentito dai titoli, le notizie sono comunque rassicuranti sia perché il Molise resta tra le pochissime regioni, tra le tre regioni dove non ci sono casi conclamati del Covid-19, del coronavirus, e sia perché i numeri delle persone invece sottoposte a isolamento, alla quarantena, all'isolamento domiciliare, sono invariati e invariato rispetto alla serata di ieri. La situazione resta dunque sotto controllo e allo stesso tempo lo stato di allerta resta elevato. Tutti i particolari nel servizio di Anna Maria Di Matteo. Coronavirus, il Molise al momento è tra le pochissime regioni italiane, tre in tutto, dove non si sono ancora verificati i casi dell'infezione da Covid-19. Un dato rassicurante anche se la tensione resta alta. Gli ultimi dati aggiornati a ieri parlano dei tamponi eseguiti tutti con esiti negativi. 75 sono le persone in isolamento precauzionale a domicilio, 111 quelle in sorveglianza. Il monitoraggio delle autorità sanitarie è costante. Anche il Consiglio regionale si è attivato istituendo un tavolo permanente al quale prendono parte, oltre al Presidente della Regione e un suo delegato, tutti i consiglieri regionali. La prima seduta è prevista per domani e si riunirà con cadenza settimanale prima di ogni seduta del Consiglio. In quella sede saranno comunicate dai massimi rappresentanti dell'ASREM e della Protezione Civile regionale le iniziative poste in essere per contrastare il rischio contagio e per la gestione dell'emergenza. Intanto, proprio in considerazione della situazione e dell'eventuale emergenza sanitaria da affrontare, il sindacato Annao Assomed ha sospeso lo stato di agitazione che era stato proclamato contro il mancato rispetto da parte dell'ASREM degli impegni assunti in relazione all'assunzione di personale sanitario e al ripristino dei servizi carenti. L'attuale emergenza sanitaria evidenzia ancora una volta come il Servizio Sanitario nazionale pubblico sia indispensabile e sostituibile nella tutela della salute dei cittadini, ha dichiarato il segretario regionale Massimo Peccianti. Una situazione dunque estremamente preoccupante, nonostante in Molise non vi siano ancora casi conclamati, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche per i risvolti che sta avendo sull'economia, con il settore del turismo in ginocchio e con le prenotazioni cancellate. E non succede solo nelle regioni focolaio dell'epidemia, il governo ha così deciso di varare un pacchetto di misure a sostegno del settore. A beneficiarne anche gli operatori del Molise, le misure prevedono la sospensione dei versamenti previdenziali e contributivi per gli alberghi e le agenzie tour operator di tutta Italia, la possibilità di rimborsare i clienti con un voucher valido un anno. Sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per agenzie di viaggio e turismo, tour operator e tutte le imprese turistico-ricettive in tutta Italia. La speranza è che il turismo possa reggere l'onda d'urto di un'emergenza sanitaria ed economica senza precedenti. E da questa mattina qualche disagio in più per le persone che devono compiere atti o operazioni negli uffici pubblici dove la gente viene fatta entrare a piccoli gruppi. In via Petrella, all'ufficio postale, con il concomitante periodo delle riscossioni delle pensioni, le persone sono state costrette ad attendere in fila all'esterno. Stesso discorso all'Inps e nelle banche dove per precauzione e per evitare assembramenti di gente le persone vengono fatte entrare 3-4 alla volta. Disavventura anche per una coppia di Isernia in vacanza negli Stati Uniti per via delle misure adottate oltreoceano per chi viene dai paesi dove ci sono casi di coronavirus, in questo caso dall'Italia. A Miami gli è stato impedito infatti di salire su una nave da crociera perché la coppia arrivava dall'Italia. Marita e moglie, nonostante non abbiano accusato alcun sintomo, sono rimasti a terra, hanno rinunciato, domani rientreranno in Italia. L'emergenza del virus procura anche qualche aspetto positivo, almeno c'è da guardare il bicchiere mezzo pieno. È il caso della città di Isernia che potrà avere qualche settimana in più per preparare, e delle altre città evidentemente, per preparare i documenti per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2021. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Isernia, Capitale della Cultura 2021, l'emergenza coronavirus, dà indirettamente una mano alle 40 città concorrenti che avranno altri 11 giorni a disposizione per trasmettere il loro dossier di candidatura al Ministro dei Beni Culturali. Infatti, con un suo decreto, il Ministro Franceschini ha modificato il bando alla luce delle disposizioni in materia di contenimento del Covid-19. Il nuovo termine è stato fissato dal Ministero al 13 marzo. E sul sito web del MIBACT è stata pubblicata anche la modifica all'avviso che riguarda il differimento del termine per l'invio dei dossier. La scadenza, prima stabilita al 2 marzo, è stata ora posticipata al 13 marzo. Intanto, al Comune di Isernia si continua a lavorare per completare il dossier che consentirà al Capologo Pentro di partecipare alla sfida che al momento coinvolge altre 40 città italiane. Come è noto, nei giorni scorsi la Commissione Tecnica aveva completato la valutazione delle proposte progettuali arrivate dal territorio, promuovendone 24 che andranno ad implementare il dossier in corso di preparazione a cura di personale dipendente del Comune e di tanti giovani tecnici esterni che stanno dando il loro contributo a Palazzo San Francesco. Non verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Marco Cialfil, ragazzo di Lanciano, che ha perso la vita in un incidente sulla tangenziale a Termoli. All'ospedale Santimotio è stata effettuata l'ispezione del corpo. la salma sarà riconsegnata ai familiari per i funerali. Intanto la polizia stradale sta ricostruendo l'accaduto. L'impatto della lancia Ypsilon con il guardrail nella corsia opposta lascia aperte una serie di possibilità. Uno schianto che non ha invece lasciato scampo al 29enne di Lanciano che aveva alle sue spalle una ragazza che viaggiava su un'altra auto. Il Comune di Campopasso contro il degrado urbano. L'ordinanza del sindaco Gravina è chiara, soprattutto nei confronti degli edifici dove le facciate del centro città chiaramente sono fatiscenti da tempo. Oppure vetrine di negozi chiusi da anni che sono ricettacolo di rifiuti e non costituiscono certo una bella immagine per il centro cittadino. Il servizio di Enzo Luongo. Negozi chiusi da mesi o anni e abbandonati dai loro proprietari vetrine diventate contenitori di rifiuti in segne mai rimosse dopo la cessazione delle attività edifici con le facciate che cadono a pezzi scritte e selvagge sui muri. L'amministrazione comunale di Campopasso lancia un'operazione per ridare decoro alla città. Il sindaco Gravina ha preparato un'apposita ordinanza che ha presentato a Palazzo San Giorgio e che mira a fermare il degrado che è imperversa. C'è l'esigenza di ridare decoro ad alcune strade immagino locali commerciali abbandonati da troppo tempo e che sono ai noi abbandonati dai proprietari. Se ci fosse anche un po' di senso civico io faccio appello prima di tutto a quello se siamo più bravi e più rispettosi della cosa pubblica otteniamo una città più pulita e sicuramente più gradevole. Poi spetta all'amministrazione fare il suo dovere nella manutenzione e spetta ai noi anche ai proprietari dei locali e degli immobili di fare la propria parte quindi garantendo un minimo di attenzione per luoghi che sono abbandonati e che speriamo poi possano un domani essere locati nuovamente. Però non è più tollerabile vedere insegne magari abbandonate vetrine sporche oppure interni di locali commerciali con ogni tipo di rifiuto abbandonato purtroppo da persone incivili. Nel Mirino in particolare il centro storico con in testa via Ferrari ma anche via Mazzini in alcuni casi persino Corso Vittorio Emanuele chi non si adeguerà sarà sanzionato anche se Gravina punta innanzitutto alla collaborazione dei cittadini. Vogliamo dare anche un periodo abbastanza ragionevole per dare il tempo soprattutto per coloro che hanno esigenze maggiori di affidare qualora dovessero affidarlo a terzi il lavoro e in questo caso dimostrandolo anche entro 60 giorni di aver affidato i lavori ci si mette a riparo da eventuali sanzioni. L'importante ribadisco che ci sia la collaborazione e soprattutto che si dia il via a questa attività anche per i cantieri abbandonati da troppo tempo che magari procurano preoccupazione agli abitanti che vi insistono e che naturalmente possono essere un rischio per la salute per l'igiene pubblica e ovviamente per la sicurezza. Presentando l'ordinanza il sindaco ha infine annunciato un'importante novità sono finalmente quasi tutte in funzione e le telecamere di sicurezza in città. Da qualche giorno siamo al 90% dopo che si è provveduto a sistemare quelle fuori uso e a installare due ponti radio. Fine settimana di lavoro per i carabinieri di Termoli scattate denunce e sequestri per vari reati spaccio di droga banconote false numerosi controlli anche sulle strade con posti di blocco e perquisizioni e a lavoro anche la polizia a Termoli due giovani di San Severo sono stati trovati con alcune dosi di cocaina ed eroina pronte ad essere vendute e 250 euro sono stati entrambi denunciati. Si torna a parlare di riunire sotto la stessa casa Abruzzo e Molise come era negli anni 60 e se ne discute soprattutto nel Partito Democratico in un convegno a Venafro è intervenuto anche il senatore Dem Luciano D'Alfonso già governatore dell'Abruzzo vediamo Luciano D'Alfonso a Venafro per parlare di macro regione Abruzzo Molise su invito di Stefano Buono dirigente regionale del PD che si propone di affrontare l'attuale momento di crisi territoriale ritornando a rilangiare il vecchio ambizioso progetto di riunificazione tra le due regioni anche in risposta ai movimenti autonomi nati negli ultimi tempi a Agnone Termoli che propongono referendum popolari per tornarsene con l'Abruzzo ritengo che alcune sfide nel mondo globalizzato vadano affrontate assieme e il Molise in questo momento soffre una crisi terrificante rispetto agli altri territori anche una mancanza secondo me di classe dirigente della politica regionale ma non è solo questo il discorso che ci fa pensare che bisogna cominciare a lavorare in cooperazione rafforzata a pensare anche alla macro regione per affrontare le sfide che ci si pongono davanti e che sono enormi lo vediamo oggi con il coronavirus non si può ragionare a livello locale e ritengo che l'amico senatore Luciano D'Alfonso ex presidente della regione Abruzzo può essere il giusto capitano per portare avanti la sua storica battaglia sulla macro regione insomma c'è fermento nell'aria il Molise è davvero troppo piccolo per contare e farsi rispettare a livello nazionale la crisi sanitaria né la palese dimostrazione se ne è parlato davanti ad una folta platea di ospiti nel suggestivo Salone delle Feste dell'antico e nobiliare Palazzo Armieri di Venafro questo è un appuntamento che secondo me fa bene fa bene al Molise fa bene all'Abruzzo fa bene al centro dell'Italia e fa bene anche ai rapporti dei territori italiani con l'Europa noi dobbiamo sapere che in solitudine al massimo ci si può confessare in solitudine personale e territoriale non si va da nessuna parte c'è bisogno di comporre di mettere insieme alleanze strategiche esaltando l'omogeneità e per dichiarare guerra ai problemi rilevanti c'è bisogno di mettere insieme energie la Costituzione italiana consente cooperazione rafforzata tra prossimità territoriali per mettere all'ordine del giorno questioni che nel mentre ci liberano dagli affanni possono anche esprimere potenzialità pensiamo alla partita infrastrutturale noi abbiamo ancora tre quarti di infrastrutture ci manca un quarto la grande cura del ferro una grande operazione per esempio per la fornitura di energia elettrica industriale di copertura digitale di attrazione di investimenti economici anche dall'esterno dell'Italia tutto questo lo si fa insieme facendo un tiro alla fune con l'Italia e con l'Europa ragionando in termini di cooperazioni tra regioni mettendo insieme esperienze comuni e anche ragionando sul macro regionalismo che prima o poi l'Europa ci spintonerà ad adottare domani è anche il giorno del cinquantesimo anniversario della provincia di Isernia in questa occasione il sindaco da Pollonio riceverà il sindaco dell'epoca Enrico Santoro quando Isernia era in carica quando Isernia il 3 marzo del 1970 fu proclamata provincia e questa data storica sarà ricordata anche dallo stesso Santoro con una sua pubblicazione parliamo di sanità ancora una vetrina importante per l'Istituto Neuromed di Pozzilli se ne è parlato nella trasmissione Buongiorno Benessere in onda sulla RAI il servizio di Sergio Di Vincenzo Nella giornata mondiale dedicata alle malattie rare la trasmissione Buongiorno Benessere in onda sul RAI 1 ha acceso riflettori sull'Istituto di Pozzilli e in particolare sul suo centro di ricerca ormai da diversi anni diventato punto di riferimento in tutto il centro sud per lo studio la diagnosi e la cura delle malattie rare del sistema nervoso e degli organi di senso queste patologie sono poco conosciute ha spiegato la ricercatrice Alba Di Pardo perché colpiscono una persona ogni 2000 la maggior parte sono genetiche e per queste ancora non esiste una cura risolutiva a Pozzilli in particolare ci si occupa della malattia di Huntington della SLA la sclerosi laterale amiotrofica e di alcune forme rare di epilessia in Italia ha aggiunto la ricercatrice molisana quasi 2 milioni di persone sono affette da malattie rare ecco perché per loro la ricerca condotta da istituti come il Neuromed rappresenta una speranza concreta a maggior ragione perché il paziente a Pozzilli riceve tutta l'assistenza di cui ha bisogno l'istituto garantisce una presa in carico multidisciplinare che fa affidamento su un'equip di specialisti in neurologia genetica psicologia neurobiologia infermieristica e tecniche di laboratorio avvalendosi tra l'altro anche del contributo di consulenti altamente speciali per il completamento della diagnosi e del trattamento una volta individuata la malattia si procede con un'assistenza a lungo termine affiancata naturalmente dalla ricerca scientifica traslazionale i risultati sono più che incoraggianti questo modo di affrontare la malattia ha infatti permesso di migliorare la qualità della vita di molti pazienti il centro-sinistra termoli chiede chiarezza sulla questione della stazione ferroviaria e accusa l'amministrazione Roberti di mancanza di democrazia e di forzature per non trattare l'argomento in consiglio comunale le polemiche fanno seguito alla decisione adottata dai consiglieri al centro-sinistra di lasciare la seduta a consigliare proprio perché non era stato consentito a loro dire di trattare questo argomento secondo l'ex sindaco Sbrocca non servono parole ma un atto ufficiale con un provvedimento del consiglio per mantenere la stazione in piazza Garibaldi una posizione condivisa con gli altri consiglieri che hanno ripercorso le procedure seguite in precedenza ribadendo anche la bontà della proposta di poter abbassare i binari in vista del doppio ferroviario con la stazione di Lesina è un anno di attività per la Lilt di Campobasso le iniziative che coinvolgono una sessantina di volontari e oltre 600 soci sono state raccolte in un giornalino vediamo 600 iscritti 60 volontari un impegno gratuito e condiviso all'insegna della prevenzione e della cura per il miglioramento del benessere e della qualità della vita di tutte le persone che affrontano un tumore un anno intenso per la Lilt di Campobasso che ha presentato a Termoli il giornalino della salute per illustrare tutte le attività svolte e le iniziative in cantiere a 360 gradi a presentarlo il presidente Milena Franchella e il vicepresidente Giovanni Fabrizio insieme a tanti altri soci che ogni giorno si occupano anche della sede dell'associazione in via del Molinello a Termoli nelle attività di prevenzione primaria coinvolte 15 scuole e oltre 500 studenti progetti che valorizzano anche il ruolo degli insegnanti e promuovono buone pratiche e stili di vita prevenzione secondaria con gli screening e le attività che integrano e danno impulso a quelle offerte dal servizio sanitario il nostro supporto è a sostegno degli screening oncologici regionali perché se è vero che il trend è di una riduzione di mortalità per cancro questo lo si deve anche al funzionamento degli screening diversi servizi in termini di accompagnamento e assistenza ai pazienti e alle loro famiglie attraverso le attività di trasporto o la fornitura di parrucche per affrontare l'alopecia da chemioterapia si è arricchita di altre iniziative che comprendono l'apertura dello sportello informativo a livello del hospital oncologico dell'ospedale di Termoli sono stati attivati quindi oltre a un punto informativo per rispondere alle esigenze e alla necessità di informare i malati oncologici anche rispetto ai loro diritti come per esempio i certificati di invalidità o le esenzioni ci sono anche altre opportunità allo sportello afferiscono anche altri due servizi che sono il servizio di supporto psico-oncologico che è un aiuto concreto ad affrontare la malattia e il servizio di consulenza nutrizionale altrettanto importante per poter contrastare gli effetti collaterali legati alle terapie oncologiche ma anche per fare un discorso educazionale sulla corretta alimentazione che non solo aiuta al recupero della qualità di vita ma riduce anche il rischio di recidive soprattutto per tumori come quelli del grosso intestino o della mammella e della prostata attenzione ai sintomi da non trascurare e segnalare ma anche all'attività fisica sono stati promossi per corsi di nordic walking camminate e passeggiate che di volta in volta hanno interessato fino a 50 persone metà di loro ha vissuto un problema oncologico Orso d'Argento al Festival del Cinema di Berlino per Elio Germano orgoglio molisano per l'interpretazione magistrale di Antonio Ligabue il pittore naif interpretato tra l'altro anche da Flavio Bucci nell'ultimo film volevo nascondermi i particolari nel servizio di Tonino Danese c'è un pezzo pregiato di Molise tra i premiati al Festival del Cinema di Berlino Elio Germano Orso d'Argento miglior attore per la superba interpretazione di Antonio Ligabue in volevo nascondermi di Giorgio Diritti film la cui uscita a fine febbraio è stata spostata a causa dell'emergenza coronavirus l'attore di origini molisane di Duronia e molto legato alla nostra regione ambasciatore del Molise nel mondo ci ha sempre abituati a parti importanti in cui entra totalmente nel personaggio che interpreta diventa il personaggio fisico anima e cuore come ha fatto con Leopardi nel Giovane Favoloso sul piccolo schermo con uno strepitoso omaggio a Nino Manfredi lui nato a Roma dove vive da sempre dieci anni fa fu un miglior attore a Cannes con la nostra vita a imbacheca David di Donatello e ora anche il prestigioso orso d'argento è tra i talenti più puri del cinema italiano e internazionale poliedrico capace di recitare anche in dialetto come ha fatto in volevo nascondermi impastando la parlata della bassa reggiana con frasi tedesche essendo Ligabue vissuto in Svizzera nella prima tormentata parte di vita Elio Germano è stato capace di catturare le movenze la fisicità la follia la tenerezza la sofferenza umana e artistica sopra le righe di un genio infelice di Tony Almat come chiamavano Antonio Laccabue in arte Ligabue tra Guastalla Gualtieri e Reggio Emilia dove sfrecciava con la sua moto guzzi rossa e dove ha dato vita ai suoi capolavori Germano ha dato voce e corpo a questo visionario e straordinario pittore per molti naiffi il Van Gogh italiano in realtà unico capace di raccontare con schiettezza attraverso metafore di colori potenti animali e piante quella vita in realtà da cui ha ricevuto tante bastonate sin da piccolo le motivazioni per l'orso d'argento a Elio Germano sono state chiarissime per il suo straordinario lavoro nel catturare sia la follia esteriore sia la vita interiore dell'artista Tony Ligabue l'attore ha ringraziato il regista e chi ha lavorato al film poi la dedica a tutti gli storti tutti gli sbagliati tutti gli emarginati tutti fuori casta e ad Antonio Ligabue alla grande lezione che ci ha dato che è ancora con noi che quello che facciamo in vita rimane lui diceva sempre un giorno faranno un film su di me ed eccoci qui e ci piace pensare che anche Flavio Bucci altro immenso interprete di Ligabue in tv e altro attore di origini molisane scomparso da poco ovunque sia sorrida e goda magari con la faccia furba di Don Bastiano per questo premio che parla anche molisano e da questo servizio su Germano passiamo invece a parlare del carnevale di Larino che ha richiamato in città tantissime persone sentiamo un'edizione superiore a ogni aspettativa presenze anche da fuori regione per un evento di livello nazionale riconosciuto per il secondo anno dal Ministero per i beni e le attività culturali come Carnevale Storico d'Italia merito all'impegno e alle tecniche sempre più perfezionate dei gruppi costruttori per realizzare dei carri giganti alti diversi metri e in movimento si stimano in 30.000 i visitatori giunti nei due fine settimana dedicati alla sfilata il ricavato dei biglietti d'ingresso sarà destinato alla costruzione dei nuovi capannoni per i carri straordinario quattro giornate dove è venuta tantissima gente noi ce l'aspettavamo perché i ragazzi l'amministrazione ha lavorato tantissimo a questo progetto quest'anno il livello artistico dei carri è stato stupendo è stato veramente elevato noi ci stiamo già preparando per l'anno prossimo perché l'anno prossimo ci sarà di nuovo l'avviso pubblico la parte del Libac e noi ci vogliamo vogliamo esserci tra i migliori carnivali d'Italia un riconoscimento utile e meritato che ha portato questa manifestazione finalmente sul palcoscenico nazionale e ha dato veramente merito alla bravura dei ragazzi davvero è stato un riconoscimento per i ragazzi che hanno lavorato duramente per mesi per la nostra Larino e per tutto il territorio molisano un progetto lungimirante condiviso dall'amministrazione comunale e dall'associazione Larinella la soddisfazione più grossa è come concludere al meglio quattro giorni intensi di sfilata sei mesi di preparazione sei giorni di montaggi abbiamo veramente chiuso decisamente col botto e con la partecipazione della comunità è quello che ci gratifica davvero otto i giganti di cartapesta protagonisti della sfilata cinque di prima e tre di seconda categoria applausi per tutti accompagnati dalle coreografie dei balletti e da numerose iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini temi di attualità nelle allegorie l'inquinamento dei mari la bellezza della musica la libertà di espressione dei sentimenti e l'omofobia ancora il bullismo il valore della cultura la pedofilia e lo sfruttamento degli animali nei circhi tema del carro vincitore di prima categoria del gruppo i gatti randaggi con ruggiti di libertà siamo contentissimi di questo ennesimo traguardo raggiunto e vorrei ringraziare tutti i miei compagni che questo traguardo l'abbiamo raggiunto insieme sono contentissimo di tutta la gente che è venuta e che dirvi venite sempre di più a trovarci perché noi ci stiamo mettendo tutto quello che sentiamo dentro quest'arte la vogliamo trasmettere attraverso tutte queste persone che ci vengono a vedere siamo orgogliosi di quello che siamo siamo larinesi e lo portiamo avanti con orgoglio al carnevale di Larino sarà dedicato un lungo speciale della trasmissione Viaggio in Molise Noi ci fermiamo vi lascio alle previsioni del tempo e vi aspetto agli aggiornamenti delle 15 grazie e a più tardi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti